Il lunedì è sempre un giorno particolare, che lunedì è il tuo? Particolare perché si vive di quello che è stato a domenica, quindi quando vinci è sempre meglio. No, siamo anche in giornata in cui perdi, quindi al di là di tutti vincere o perdere, sono qua a creare un altro attestato di stima in una terra che, come dicevo prima, ha quasi dieci anni della mia vita. Sì, è un giocatore che da Nianto gli ho passati qua, quindi la consiglio quasi ormai come casa mia, quindi sono molto contento, al di là dell'amarezza che può magari derivare da una sconfitta della partita di domenica. Vuol dire che quel campionato dell'anno scorso è davvero irraggiungibile, Andrea? Ma parlate sempre del passato, io credo che il conto è presente, quindi fate sempre riferimenti, credo che non serva a nessuno. L'anno scorso è stata una stagione, quest'anno è un'altra, con altre qualità, con altre difficoltà e noi siamo lì. Però è sempre chiaro che davanti c'è l'ultimo risultato, quindi è chiaro che anche noi avremmo voluto ritornare alla vittoria, che ci manca da un po'. Non ce l'abbiamo fatta, e anche noi davanti abbiamo una scuola forte, e comunque credo che la scuola, parlando anche prima, ha fatto una buona gara. Come hai elaborato questa sconfitta? Come stai elaborando? Ah, le scuola vanno valutate, ho già rivisto, qualche errore lo facciamo, però facciamo anche tendate a cose positive, quindi credo che si lavorerà sempre lì, migliorare quelli che sono i nostri aspetti migliori, e cercare di committere migliori, quindi quando sbagli davanti sono giocatori importanti, che perdonano poco, però al di là degli errori o delle cose positive, la squadra è quello che fa una buona partita. Senti, in questo momento c'è il dito puntato sulla difesa, è giusto? Ah, io credo che sia sempre sbagliato, buttare il dito sempre, soltanto sulle parti, è sempre una squadra che si deve difendere, in una certa maniera, da squadra. Poi nella squadra ci sono le situazioni individuali, come ci sono davanti, quindi quando si fa pochi gol è sempre il dito sull'attacco, invece è la squadra che deve giocare, quindi sono sempre gli scorsi che lasciano un po' il tempo che trova. Sicuramente i numeri dicono che siamo un po' meno solidi, quindi più o meno lo scorso anno, era quello che dicevo, le stesse domande me le facevate lo scorso anno, e dicevo, vabbè, facciamo sempre un gol più degli altri, quest'anno un gol più degli altri non lo facciamo, e quindi adesso è così. Però 20 gol forse sono troppi, 20 gol subiti, siete la terza peggiore di terra, cos'è che non funziona, forse è un gol tattico, dov'è? No, ma negli eroi individuali o tattici, dobbiamo essere più soliti come squadra, la cosa che mi sento di dire è questa qua, poi per l'allenatore insieme alla squadra, probabilmente perché, però lo scorso anno, ripeto, avevamo presi, sembra 19 o 20 uguali, quindi magari ne facciamo qualcuno in più, ma ripeto, si parla sempre di quello che era, adesso siamo così, dobbiamo migliorare quello che sicuramente è un aspetto che i numeri parlano chiaro, quindi dobbiamo prendere meno gol e dobbiamo lavorare per quello. Marquez, che è stato strombazzato come l'acquisto importante di questo Verona assieme a Saviola, forse sta rendendo un po' meno di quel che ci si aspettava, soprattutto dalla sua fama. Che difficoltà sta incontrando? Ma no, ma io credo che sia un giocatore forte, bravo, incontra le difficoltà che incontra tutta la squadra, quando non si difende bene, non è un giocatore che fa un reparto, e lo che dico sempre, è una squadra, poi è chiaro che lui ha tante altre qualità e a me piace parlare delle cose positive, quindi lui ha più cose positive, come ha detto anche lui nell'intervista, deve lavorare a migliorare tanti aspetti e così faremo tutto. Come ti spiega in vista gli errori individuali, specie appunto nel reparto difensivo? Agli eroi ci sono, sia come chi sbaglia un calcio di rigore, chi fa una copertura sbagliata, chi si fa magari anticipare, quindi gli errori fanno parte del gioco, farne meno sarebbe importante. Ma più che altro dal difensore, quale sei stato tu, insomma, come ti spiega? Ah, lo so, si spiega, si spiega che comunque a volte gli errori sono, magari personali, a volte sono anche un po' perché gli avversari fanno talmente cose che magari ti impongono anche di fare degli errori, ti costringono anche a fare qualche errore. Io credo sempre un po', la verità sta sempre a metà, credo che dobbiamo migliorare l'aspetto generale di squadra, difenderci magari meglio, magari più alti, magari con tante altre situazioni, però parlare individualmente non mi è mai piaciuto e non lo farò mai. Sabato è una sfida salvezza comunque? Ma è sempre stato dall'inizio il nostro pensiero alla salvezza, ma io credo che sia il messaggio che sia diverso. Il messaggio è sempre stato quello, noi lotteriamo per la salvezza e soprattutto ce la dobbiamo andare a conquistare, a guadagnare, quindi quello che è tutto scontato, nella vita di scontato non c'è niente, vincere, come ho detto anche nel pregara, ti poteva proiettare a pensare chissà che cosa, perdere non è che ti sprofonda, però vedi in tutti voi e tanti, insomma i pensieri già sono diversi, il calcio è fatto così, adesso noi dobbiamo pensare soltanto a una parte della volta, andiamo a se solo, abbiamo sempre saputo che se solo è una squadra come noi, quindi adesso è meglio di noi, è un punto davanti, quindi ieri eravamo meglio della Fiorentina, oggi siamo peggio della Fiorentina, quindi la classifica, i risultati dicono e vogliono dire tanto, andiamo a giocare contro una squadra che è davanti da noi, quindi è una parola difficile. A proposito dei messaggi, il premio che ti ho dato oggi è un bel messaggio per quello che ha fatto l'anno scorso, il gioco è un grandissimo campionato, di là del passato comunque è un giusto premio. Questo è un giusto premio, riconoscimento all'allenatore, che comunque è chiaro che ho condivido con tutta la squadra, con tutta la società soprattutto, perché sono senza tutti i giornalisti, la gente, senza tutte queste componenti credo che nessuno da solo può vincere niente, come giustamente diceva, Raffae da solo non può tenere in piedi tutta una difesa come l'attacco, come il centrocampo, quindi è sempre un discorso di gruppo e il nostro gruppo, tutti insieme, ha lavorato molto bene lo scorso anno e credo che sia gratificante ricevere questo premio del secondo anno di fila, quindi speriamo di prendere anche per il terzo anno. La stagione è ancora molto lunga, è chiaro che davanti agli occhi si è sempre la sconfitta, quindi ripeto, lunedì è sempre difficile mandarla giù, a me proprio personalmente, però poi ce n'è un'altra e il bello di questo sport in generale è che c'è una rivincita subito ed è anche abbastanza vicino.